Buonanini, mister del nuovo ambizioso Tattica, parlaci un po' in generale della squadra di quest'anno e delle ambizioni di questa stagione. Sicuramente come abbiamo detto il primo giorno di preparazione, l'obiettivo nostro sarà quello di migliorare la posizione dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati quinti, quest'anno cercheremo di fare meglio. Gruppo nuovo, abbiamo fatto un sacco di diversi acquisti, nei ruoli, nelle parti dove dovevamo fare una carenza l'anno scorso. Siamo un gruppo numeroso, questo non mi preoccupa, ci sarà spazio per tutti, l'anno scorso ho fatto su 26 partite 24 formazioni diverse, perché chi sta in forma per me gioca. Siamo in attesa dell'uscita dei gironi, vediamo chi ci capita quest'anno, sappiamo che ci sono squadre attrezzate in giro, noi cercheremo di essere meno. Proveremo in tutti i modi a raggiungere questa statistica seconda categoria. Ma che è il nome nuovo per quest'anno? 9-9, abbiamo preso diversi giocatori alla Datico d'Arquinia, sia dalla prima squadra che dal settore giovanile. Nella prima squadra il punto di rancino c'è i piccioni, dal settore giovanile abbiamo preso Bufi, Fabiani, Luciani, Battellocchi. Poi ci sono venuti altri innessi come Pagliani e poi altri giovani che stiamo vedendo piano piano. Politica è infortunato e poi abbiamo mantenuto tutto il gruppo storico, quello che fa piacere è quello, che tutti sono voluti rimanere. Anche se siamo tanti, tutti hanno accettato questa sfida. Grazie mille, caro di scuola.